ma buongiorno recuperatrici e recuperatori di libri del passato oggi andiamo avanti con un libro che a dir poco straordinario stiamo parlando di nove racconti di jenron david salinger pubblicato da einaudi questa è una vecchia edizione degli anni 70 copertina bellissima del pittore americano behen shan oggi è ristampato sempre nel catalogo einaudi con un'altra copertina che è bianca uno dei tre libri di racconti pubblicati di salinger ce ne sono altri due gli altri due contengono ognuno due racconti lunghi e invece questo qui ne appunto come come spiega gioiosamente il titolo ne contiene nove io sono abissalmente legato a questo libro perché è il libro della mia infanzia che nella mia giovinezza 18 20 anni 22 così a quei tempi per me era il libro di cui rileggere un racconto ogni volta che per caso mi capitava di imbroccare due o tre libri che non mi piacevano e quindi era il libro regolatore il libro che ogni volta rinfondeva fiducia nella letteratura ecco ecco quindi quindi in assoluto in assoluto stiamo parlando di uno dei massimi scrittori della letteratura mondiale quindi chiaramente della letteratura americana appunto è salinger è una vetta è una vetta insuperabile questi sono nove racconti che hanno l'intensità alcuni di questi magari non tutti ma sicuramente 5 su 9 hanno l'intensità di romanzi quindi quindi si vede questo scrittore che cosa fa in 20 pagine appunto una roba che ti rimane dentro e a cui ripenserai per mesi anni e forse tutta la vita appunto la forza a forza di un romanzo appunto concentrata racchiusa in un racconto lo stile di salinger è lo stile meraviglioso se qua avete letto il giovane holden è un po quello e poi ha delle variazioni a partire da quello no comunque sempre questo questa unione tra un linguaggio se vogliamo tra virgolette basso cioè un orecchio attento a come parlano veramente le persone il linguaggio del volgo se così vogliamo dire no appunto che si va sempre a intrecciare a mescolare invece con un con con una struttura con strutture delle strutture letterarie le strutture delle sue narrazioni che sono sempre molto interessanti molto molto originali molto scusate ogni 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 complimento superlativo è sprecato per questo libro quando hai a che fare con 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 un caposaldo no è come dire vuol dire cioè allora perché leggere nove racconti e che serve come dire perché ascoltare mozart perché guardare i quadri di caravaggio perché vedere i film di fellini no ok o di bertolucci no è quando abbiamo a che fare appunto con con un grande maestro no è a un certo punto non sai nemmeno più perché perché quella cosa esercita un fascino così grande però vi posso assicurare che sicuramente in tutta la letteratura americana è difficile trovare racconti più belli di questi sicuramente e e in generale in generale in generale è difficile sì insomma potrebbe non piacervi sì ma c'è una piccolissima percentuale di possibilità che potrebbero piacervi in realtà c'è grossa possibilità che possiate amarlo e magari da di qui andare a scoprire gli altri gli altri suoi racconti e magari il giovane olden se non avete ancora letto e poi alla fine scoprire una piccola cosina che però da da riflettere nel senso che che nel senso che esiste un fantomatico libro che raccoglie cioè che raccoglierebbe 22 racconti che salinger ha pubblicato in america su varie riviste tipo il new yorker il post e queste cose qua quindi 22 racconti meravigliosi che però non vengono tradotti non vengono portati appunto alla gente alla gente che lo ama e quindi è dal 2010 che ci continuiamo a domandare perché questo libro non esce perché dai naudi qualcuno non si sveglia con il drin drin capparelli non si sveglia non si mette a tradurre questi altri 22 racconti di salinger nel frattempo che non si svegliano noi ci leggiamo questa meravigliosa chicca e non vi racconti salinger e in audi anche se la luce del giorno è ancora dolcissima io vi ringrazio e vi auguro una bella buonanotte ciccetti a presto